a bella a tutti ragazzi siamo a getto e oggi continuiamo il gameplay su piante contro zombie sa che se le taglia le unghie qua per vai è già cominciato perchè è un piccolo problema tecnico abbiamo solamente scelto i nostri amici da utilizzare a parte che questo è un intruso non doveva esserci ma nell'opera la cosa non spreconete per stammerci forse quando vedo uno di quelli consensuali ma il girasole ne produce tipo quest'ora aspetti lo produce invece questo qua aspetta 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 perchè è notte il girasole di notte si confonde ah si potrebbe andare un cazzo volante un cazzo volante i brotolenti quei funghi e perchè stanno calzano stanno calz come fare un ragionamento di tipo 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 3 da qua e quindi e quindi e quindi andiamo appena a superare la foglia e stai a vedere ole eh 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 è stato assente e quindi e quindi e quindi allora non supererai mai le mie voci ora sono in giù guarda come lo stacca mamma mia lo sono asfaltato si ma la c'è un parte ma qua guarda quanti pezzo di sole hai sono bambini dicono perchè qua è tutto gratis appunto dai questo qua mi piace lo mettiamo qui no no pupa eh nooo sono stati sprecati butta il coso d'argelino taggito azzurro mmm no pure poi li ripite cazzo aspetta che mi mangio alle piante e mi mangio a tutta devi fare forse un attimo oh 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 si è ingrossato il pene lì pochi mani della vicina pochi mani della a non dipende al più grosso ancora no è solo nel il controllo di due cacca io paragolo sempre qui faccuno non paragone a domanda perché mi vede mi vede l'asco giù mhm guarda quanto lo asfalto allora no si lo signavamo cazzo in realtà cazzo a il a scusa stai che qua non ci saremo quasi mai a fine perchè vabbè che io nella notte la ricordo c'è un mostro che diresti che uno di questi sei continua alla fine uno di questi sei lo vedete alla fine quello li alzuro porti no neanche questa patata utero faure 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 a me è nascita scacchina 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 oggi non c'è patrici che c'è compagno patrici è la patrici patrici è la patrici scacchina 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 è quello che abbiamo fatto scacchina con tutta la roba che giravamo troppo allora noi ci stiamo divertendo un sacco ma voi non vedete cosa facciamo meno male no iniziereste a dubitare della dell'orientamento sessuale di Alan no ma anche tu 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 e basta basta sto minchia di telefono no ma ma sei incazzato quello eh eh cazzo voglio vedersi ti ci imparano il giornale te lo ciullano allora i piccoli non vengono automaticamente i soli no ma tu non ha senso c'ho chi di ma che si trovino a chiedere un matrimonio ma una pena anche 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 a me mi dice non aspetta su bigatelli esatto tutto come se mi piace poi ti può anche sbagliare a vivere con voi tipo e poi ti puoi dire che cosa ho fatto ora ho perso questo cambiamo di peso ecco lasciamo andare ora commenta il soli tanto non serve non so vuoi fare così no 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 sei divertito oh merda quello di festa io ce lo metto no quello lì che non vale nulla ma che cazzo fai secondo me già vinta la partita ti prendo io i soli perché siamo te aia ho fatto apposta e questa qua guarda un diversivo lo metto qui no ma non si mette non si vuole mettere ecco abbiamo perso questo ci sono la la ma la ma la una non è visto, non lo faccio in caccia dai ce l'ho qua se ci va, le registrazioni no, è tutto caccia dai, iniziamo a fare un po' i seri che ormai abbiamo sprecato tutti i soldi qua tutte sono usate vabbè che sono sicurezza ecco, ha fatto lo stesso gioco di messaggio oppure fai a vivere cibi poi ma uguale a me l'ha scritto ma ciao grazie eh ho fatto i cazzini ho fatto i cazzini ho fatto i cazzini ho fatto i cazzini un po' di studio ma guarda cosa, tutta come divertivo un coso di pasto guarda cosa inizia a fare addio, guarda che non fa niente buono come direzza la gente lì in contro quanto inizia se ci sveglia ma non fa niente più o non fa niente è un po' di lì in questo modo no bastardo vediamo ce la faremo no dai muovete un po è congelato intanto ecco ce la facciamo sì no cazzo non finisce più così no 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 ma che cazzo ma io volevo vincere con avendo niente un livello in nove minuti non finiamo più sto gioco faremo tipo due livelli a video no la ciabatte per festi cosa serve quello di nuovo eh eh io non te lo dico lo scopriremo assieme lo scopriremo assieme assieme c'è una parola da froci io piuttosto uso questo alen guarda io lo faccio tutto assurdo quello no è un po' alen fallo te sto livello ok ora giocherà alen e voglia vedere che che fatti i culi adatte allora vediamo un po devo mettere io nonostante il casteggio io vinco sempre allora levati un po dalle palle proprio da direttamente via dalle palle che stavano il piede sulle mie palle sì eh sì eh ma sì non sei manco a giocare ah ce la fai a p... si prende col tasto e sministra tasto e sministra infatti cosa fatti? vabbè pupa quello posso andare a prendere la... posso andare a far prendere la macchina? il tosa erba dai no c'è il tosa erba vabbè vabbè intanto orzia di pulita mappa fa un culo che ba ha un.. è vento la merda oi original prendi sole e CAZZO NO NOOOO ska l'Empardo ti svantaggia l m di helpful eh però rischio perchè qua non dovevo mettere un altro eeeh hai visto vabbè colpo vincente uffa sole 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 francesco sole 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 come no famosissimo youtuber che cazzo è adesso a me oggi si metti un popolo da 75 per una parte io lo metterei qua qui togli quello con la pala toglilo ooooh quell'altro dai un invertito ah questo si oh mamma prendi soli no ma che stigato è questo quello grosso guarda lì fare bolle di sapone ma che piccoli poi c'è la munizione di quello grosso che fa bolle di sapone nel 2 no non quello si interessa aspettandolo vedrai ed è una delle piante si può rervo rosso vieni 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 dopo vieni vieni sta crescendo tra poco lo sentiremo vieni aspetta io voglio sentirla vieni un attimo oh merda c'ha quello in mano la porta oh è lo spondagno oh mamma ti spacca il culo mamma mia te la spacca la scavata vediamo come la scavallo vedete come la porta rimane oh cazzo non per cadere il culo io mi avevo nel culo la porta guarda non basta neanche la patata perchè hai salto lato ma perchè secondo me è un po' una mezza sega un po' come te come puoi poter però c'aveva salto lato no si guarda lì come quello per un attimo io io sono nato quasi io no ma no 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 monte hai visto come sto tipo stare in centro ma ma tanto io un cazzo lo cazzo si vuole non ho capito no no non ti spari la cazzo no aspetti il colui c'ha più stacato no aspetti eh si puffa ma non uno oh 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 un altro pallone aedio oh 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 porca di vediamo vediamo dove scherzarlo qui 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 no no scherzavo qui non ha poco senso metterelo qua metterelo qui 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 no 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 non ti caperlo così non ti caperlo oh mamma scuola pure la porta quello è questo quello è questo ma perchè eh aspetta che aprivo sto sole dove che mi spure qui oh mamma cos'è è cos'è ma cazzo noo che piccata in realtà non sei proprio un cazzo ora mi fai fare aspetta no faccio io o mamma si aspetta si ma che figo ho trovato la vita ho visto che c'è più spazi allora un due tre quattro cinque e nooo volevo mettere questo no si no let's rock mamma quant'è cazzo di roba non ti ho messo quella pattumiera qui non mi serve veramente proprio niente quello da 75 l'altro il creeper guarda come si chiama creep buster oh no creeper non è che ti sei confuso con non è che il creeper non è che il creeper si è trovato lì eh il creeper si è trovato lì eh il creeper si è trovato lì non mi tocca i capelli per l'amore c'è non mi so non lo so non lo so non lo so come si chiama il 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 boom shroom in realtà si ma si chiamerebbe match barco vabbè buonanotte è vero, è due prendono due? c'hai proprio il dischetto? no, non so come farlo eh, è stato il computer che lo cerchiamo eh? magari da una computer di trovo magari mettiamo un po' in pausa e diciamo che lo cerchiamo un po' un po' state prima che finiamo questo gioco domani mia, facciamo due livelli a allora poi c'è, quindi ci sono i livelli acqua scusa dopo il 2 c'è il 3 4 e basta poi, no? quindi qua il 2-4 poi c'è il 3 si, allora c'è il 6 il 6-10 si ma porca di quello guarda ci c'è il mondo normale mondo normale di notte piscina di notte piscina di notte piscina di notte con la media questo è mondo normale di notte poi c'è il tetto il tetto fornale mamma che mi fottono che mi fotte tu guarda questo mi vuole uccidere tu 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 tant'ora te lo manca ma mamma no mi fò perdere veramente che culo spannato no perché l'ho levato che cazzo è fatta l'alenda è un campione non è un campione non è un campione ci sono un campione e ora chi mi fotte che c'è tutte queste palloncini qua davanti e guarda bisogna l'apertura e metto un coso da 75 per provarlo cosa? dove lo butto? allora io ti consiglierei dici? attento che te lo sfotto no 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 poi me lo fotto no ah che cure visto si è tolta la tomba della tombuletta puro del cazzo togli un po' tutte le tombe eh sì prima che ci arrivo eh per ogni tomba intanto ci fai guarda la bandiera però è vaffanculo hai rotto il po hai rotto le pate hai rotti coglioni hai rotti oh ho rotti appena che ti c'è come sei è po' il giro sono è ti c'è hai rotti nono è fàunco ma forse non deve poter le merite puções puções ah non è un po' puções per me per farlo per me per farlo per la storia per la storia che il tempo finisce per la storia fai la battuta quella di la banca Allora praticamente Se la banca si rapina Perché la rapina non si banca Allora Voglio un mi piace per quante risate Avete fatto Ah cos'è Manganiello Mi deconcentri Mi so Te lo faccio venire Erectus Homo erectus Oh mamma so cacciare la lancia Oh cristo Te lo vuole inceppare il cosotto per sparare Cristo è una madonna Ehm Mi voleva messi Io l'ho tappata la bocca Non era qua E' un po' come un picciatore Dai Eh no Dai Dai che ce la fa Ci scommettiamo A me che vuole tardi Sì che ce la fa Ce la fa ancora Sento che ce la mangia lo stesso Nel due ce la mangia C'è da fuori Prendi Vieta No 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 Quindi Sono cacci notte E Io so No cazzo Vabbè la nostra caccia Se mai nel prossimo video Possiamo fare un gameplay Come fare un trucchetto Iuale E poi vedi i colori No Questo non è un livello Ma sempre un mutuo Come avere un sacco di monete Ma se mai quando finisce il tuo gameplay No quando finisce Eh sì Guarda che cazzo Siamo Eh lo so Stiamo a mettere Quattro minuti Non era mai E' un po' Oh Questa mi ha Ah Bravo Oh male Non mi legge Nel E' un po' 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 Mettilo in po' Eh no Poi ci vuole le copyright E' un po' E' una pena Se mai arrivati noi Forse lo ricolleghiamo Come una pena Arriviamo nero Rilecchiamo in sesso Lo rimettiamo in sesso Ma cosa sei Di tutto Ti lascia a cercare Sto che vuoi Per scoprire Non va a cercare No perché lui No perché basta La segnalazione Del cazzo E da chi Chi è che potrebbe Farsi una segnalazione Chi potrebbe essere Questo passato Ce lo venga a noi Il signor Il mondo Non dire il cognome Perché poi ci può Segnalare Questo E possiamo Questa 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 Ma che cazzo Ma che cazzo Ma come non è Ti so Sai che se fai Tutto il livello Solo di questi Questa qua Non è Inizia a fargliere No Prendi i soli I soli Porco Vaffanculo Sotto le mani Sotto le mani Mi sono Declare Perché c'è un fiume Drano Perché boh Io non so Ma poi c'è Io lo so Infiorata Perché ci vede Che c'è un fiume Inizia Ma Mamma mia Sta fuori Grazie a lui Le mele Le famose Le abbiamo tutto Leva Leva Ha fatto una Palla pubblicità Togli Tutto Togli No All'almanacco All'almanacco Devo tutto Per fare come Tu vuoi No No È vero Ragazzi Cannamlac Almanacco Si ma Contrata è Cannamlac Ah Ok No Oh Vediamo L'almanacco Fa vedere tutte le piante Di giunghi Vaffanculo Vabbè Cosa fai Chiudati Oh Merdo Ho chiuso Scusate Vabbè Ragazzi Ci vediamo Col prossimo Video Bella Bella Ciao 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 Ciao